Salve signor Ricci, e allora finalmente Giulio Cesare torna di nuovo a Roma, come sta andando? Eh sì, alla grande, ultimi preparativi, siamo pronti, e anche le aziende sono pronte, perché chiaramente ci saranno molte cose, tante novità da presentare, loro, le loro cose, e io, i miei dischi. Stavolta la novità è che hai riempito tutti gli spazi, o sbaglio? Allora, per essere precisi, gli spazi li ho sempre riempiti, quest'anno ho tre sale in più, per una ragione molto semplice, perché erano in manutenzione dopo il Covid, perché dovevano fare dei lavori importanti, e quindi non erano attive, e quindi in più quest'anno, oltre agli spazi di novembre, ci sono tre sale in più, quindi è importante, è interessante. Di solito, al Gran Galà di Roma, gli spazi si riempiono sempre, e quindi io cercherò di aumentare le sale, così aumenteranno gli espositori, farò delle magie, ogni volta aumenterò di tre sale, comunque sono molto contento, anche per dare la possibilità a più aziende di essere presenti, e devo dire che è un bel parterre, non so se l'hai dato un'occhiata, se hai valutato, mi sembra un bel parterre di aziende. E tu in particolare cosa farai, cosa ci aspettiamo da Fonet in questa edizione? Ma allora, intanto, chiaramente vinile, ho dei vinili nuovi, qualcuno, sai quelli un pochino più precisini, proprio nuovi, l'edizione giapponese di tre vinili che praticamente in edizione tedesca sono durati una settimana, quindi voglio dire ecco perché li chiamo nuovi. No, sono musica nuda, sono tre album molto importanti, e quindi mi fa molto piacere, è un lavoro molto speciale, anche molto lungo e dinamico, perché sai, stampare in Giappone è dall'altra parte del mondo, poi loro parlano solo giapponese, quindi non è proprio semplicissimo. Comunque, poi naturalmente farò ascoltare a chi non ha avuto la possibilità ancora di farlo l'HQCD del quarantesimo anniversario, e mi auguro che i ritardatari se lo accattano, come dicono a Napoli, per far sentire la qualità di questo standard che ritengo straordinario. E poi mi auguro veramente tanto, perché è più di un anno che ci lavoro, al doppio vinile a 45 giri dell'anniversario. Non l'ho annunciato, non ho detto nulla per scaramanzia, perché è più di un anno che ci sto lavorando. Tra l'altro sarà un'edizione tedesca, ma non perché mi sono rappacificato i tedeschi, che sinceramente non li sopporto più, ma perché, l'avevo detto, forse non so se ti ricordi tempo fa, in Germania, con dei vecchi amici, che hanno messo a punto un sistema per stampare i dischi con le presse manuali, c'era questa possibilità. E quindi il disco d'anniversario lo volevo fregiare di questa cosa. È stato un anno di test pressing, test pressing, nuovamente test pressing per verificare la qualità. Grazie Giulio Cesare, non vedo l'ora, ci vedremo tra poco, e facciamo magari un ultimo appello agli indecisi per venire al Gran Gala di Roma. È sempre un piacere, voglio dire, di numerosi, fino all'assolimento posti, nel senso che poi alla fine lo scena non ci blocca le entrate, a parte le battute. Comunque, veramente, ho già avuto tantissime registrazioni online, mi fa piacere che il sistema è apprezzato, così evitate le file, e poi non vedo l'ora di iniziare, anche perché sono dei momenti di condivisione, sono importanti, lo stare insieme, fare brindisi. Tra l'altro quest'anno c'è anche un caffè ottimo, quindi gratis, quindi eccetera. Non il ponce alla Livornese, è solo caffè, per ora. Comunque, veramente, a parte gli scherzi, a parte la gioia, così, vi aspetto, vi aspetto con grandi piacere, io e tutte le aziende che saranno presenti. Quindi il 9 e il 10 marzo, sabato e domenica. Ah, una cosa, in chiusura, lo dico perché mi sono arrivate due o tre mail dicendo ma come mai la comunicazione del Gran Galà, che noi avevamo avuto la comunicazione che era stato annullato? Ecco, no, vorrei sfatare questo mito, non so chi ha diffuso questa notizia. Il Gran Galà di Roma si farà alla grande, ecco. E evidentemente, non lo so, qualcuno era distratto, si è sbagliato. No, l'ho detto perché mi sono arrivate proprio stamattina alcune mail di persone che si meravigliavano che ci fosse. Allora, tutto qua. Bene, un saluto a tutti. Ciao, grazie Emilio, ciao e buon lavoro.